Il nostro Polifonico, che voglio ricordare sempre, ha 71 anni di età, praticamente è il più antico festival dedicato alla coralità, che porta cori da tutto il mondo, è stato premiato riportando un contributo finalmente degno del lavoro che fa il Polifonico, perché da 9.000 euro siamo passati a 152.000 euro. Da 9.000 euro di contributo statale a più di 150.000. Insomma, un bel salto di qualità per il Polifonico di Arezzo e per la Fondazione Guido d'Arezzo, che ha vinto il primo premio del bando istituito dal Ministero della Cultura per le rassegne corali. La cosa più importante, al di là delle risorse che sono sempre importanti, è che il progetto si è classificato primo. Questo a conferma dell'ottimo lavoro che è stato fatto dal nostro direttore artistico Luigi Marzola, che era praticamente il primo anno che firmava completamente lui il progetto artistico. Quindi siamo molto felici, un lavoro di squadra, un lavoro che premia questi anni di lavoro durissimo, ma che era confermato dalla presenza copiosa di cori da tutto il mondo alle ultime due edizioni del Polifonico. Oltre ai concorsi corali e di composizione, nazionali ed internazionali, alla Scuola Superiore per Direttori di Coro, al Centro di Studi Guidoniani e alla rivista Polifonie, adesso un'importante novità, la nascita del coro della Fondazione Guido D'Arezzo, una formazione professionale che si esibirà in città domenica 17 dicembre alle 17 nella Basilica di San Domenico.